Il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Domenica 7 maggio alle 16 le otto contrade scenderanno in campo al buon riposo di Pozzi per la 62esima edizione del Palio dei Mici di Querceta. Allo stadio comunale in queste sere sono in corso gli ultimi preparativi per lo spettacolo più atteso dell'anno. Pochissime ore per provare ancora le coreografie e il corteo storico con tamburi e sbandieratori a seguito. I dettagli dei temi e dei costumi scelti restano gelosamente segreti e saranno svelati solo il giorno del Palio. Montato il palco araldico e in fase di allestimento il fondo per la pista delimitata dalle balle di Fieno dove correranno i Mici per l'entusiasmante corsa finale. E a proposito ecco la griglia definitiva dei Fantini che correranno per le rispettive contrade. Tutti inseguiranno di certo il campionoscente Thomas Bresciani del Pozzo a caccia del terzo successo consecutivo in Europa a Pippo. Tra gli inseguitori spicca Angelo Pito, otto vittori alle spalle quest'anno in gara con la Cervia. Occhi puntati poi su Francesco Ferrari, vincitore con 100 lire nel 2012-13 con i colori della lucertola. Tra le novità Davide Prandi, Fabio Trentani e Maurizio Ruggiu, confermati Dennis Del Duca e Giuseppe Bigicchi. Già sold out la tribuna coperta dello stadio, posti ancora disponibili per le gradinate. A questo punto l'unica incognita resta il meteo, ancora molto incerto per domenica. Qualsiasi decisione, si sa, sarà presa dalla Proloco insieme alle contrade soltanto la mattina stessa, a mezzogiorno. Intanto, per entrare nel clima contro l'Aiolo, giovedì sera su Rete Versilia News ci sarà una puntata speciale di Botto e Risposta, in diretta alle 21, tutta dedicata ovviamente all'imminente palio dei mici. Grazie a tutti.